Gobbi, Gobbe, buongiorno e buona domenica. Ha sbagliato? Poi col senno di poi direte voi, fare tutti, sì è vero, però io credo che Allegra abbia sbagliato. Ha fatto un errore, un errorone secondo me. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto di cambiare un giocattolino che stava avendo dei meccanismi chiari, efficaci, ben definiti. Mi raccomando iscrivetevi al canale, fate un piacere se vi iscrivete al canale, ovvero Milik al posto di Hildiz. Poi dopo è chiaro che Milik si è fatto espellere, diventa facile adesso buttare il dito contro di lui. Cosa volete ragazzi? Lui ha cercato di recuperare la palla, quell'altro gli ha messo il piede davanti e l'ha colpito, cioè non è uno di quei falli dove dici veramente fai una reazione scomposta, cioè secondo me è uno scontro di gioco sfortunato, poi uno può dire poteva andare meno in ruento. Sì, quello è l'errore di Milik, ma in realtà secondo me ragazzi il problema principale è che si vedeva già in quei 18 minuti che non eravamo la stessa Juve, perché con Hildiz abbiamo qualcosa che normalmente invece non abbiamo, cioè quella capacità di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica che normalmente non c'è perché non abbiamo centrocampisti offensivi con quelle caratteristiche e perché non abbiamo altri attaccanti con quelle caratteristiche. Un po' chiesa, in maniera differente, perché Hildiz svaria un po' di più, però senza di Hildiz in questo caso noi veniamo meno relativamente a quella capacità che ha permesso a Vlaovic di avere delle condizioni favorevoli rispetto a prima, ha permesso alla squadra di giocare in un modo diverso rispetto a prima, perché c'era quella situazione che ti permetteva di legare maggiormente la fase difensiva e la fase offensiva e lui non l'ha messo su. Perché? Pare che ci siano state questioni comportamentali che non sono piaciute da Allegri, perché non veniamo a raccontarci della storia della stanchezza, perché un ragazzo di 18 anni non può essere stanco facendo una partita a settimana, perché poi tra l'altro quando è entrato ha mostrato subito che non era stanco, ha mostrato subito che non era nemmeno fuori forma, perché ha cominciato a saltare gli uomini, ogni volta che toccava palla creava qualcosa, quindi pare che sia una questione comportamentale, poi io da fuori posso dire delle cavolate, però Allegri ragazzi con i giovani fa una fatica, fa una fatica con i giovani Allegri, perché lui c'è sta cosa che i giovani devono rimanere assolutamente sempre zitti, muti, sguardo rivolto verso il basso e va bene certamente, certamente che devi farli stare con i piedi ben piantati in terra e farli lavorare con umiltà, va bene, però lui sta cosa qui dei giovani ce l'ha da sempre, anche il fatto di non farli giocare quando potrebbero giocare perché poi rischi che si bruciano, che si montino la testa, a me non è mai piaciuta la sua gestione dei giovani, detto questo, senza voler mettere la croce addosso ad Allegri, però secondo me ieri l'errore principale è stato il suo e dopo di conseguenza ci è andata dietro tutta la partita a seguito degli episodi di campo che sappiamo, però ripeto anche durante i primi 18 minuti io non ho visto, anzi non ho visto la Juve che avevo visto nelle 3-4 partite precedenti, perché è una Juve completamente diversa senza quel genere di giocatore. Dopodiché cosa dire, devo dire che da quando poi Millic è andato giù ci siamo abbassati tantissimo, è normale che sia così, abbiamo avuto la fortuna di trovare il gol e lì bisognava avere la forza di non schiacciarsi così tanto, invece noi ci siamo schiacciati tanto, però rispetto alle volte in cui ci schiacciavamo 11 contro 11, perché proprio la filosofia era difendere il gol di vantaggio, ieri ci stava, ci stava, bisognava farlo un po' più alti, non so sinceramente quale poteva essere la soluzione, magari mettere a punto Hildiz e Hilling prima per cercare di sfruttare il fatto che loro si sbilanciavano in avanti, non lo so, poi questi non li vedo proprio come errori, cioè non li vedo come errori, perché sono scelte difficili in un contesto difficile, però l'errore è stato alla base della partita di ieri. Devo dire che la Juve ci ha provato, perché altra cosa interessante è che comunque abbiamo provato a vincerla, appunto mettendo su Hildiz e Hilling abbiamo mostrato che volevamo provare a vincerla, però era tardi, non siamo più riusciti a sfruttarli come si deve, Hilling e Hildiz, perché schiacciati come eravamo, faticavamo a dargli quelle palle che poi possono permettergli di essere pericolosi. Nonostante questo, ho visto un ottimo Hildiz che fa quello che sa fare, cioè saltare gli uomini e creare superiorità numerica. In questo momento non possiamo stare senza un giocatore del genere, assolutamente. E niente, quindi siamo a più due virtualmente, oggi l'Inter potrebbe passarci davanti e poi dopo andiamo a giocarci lo scontro diretto che a livello di punteggio, secondo me, come vi ho già detto, non sarà certamente lì che si deciderà il campionato, perché anche l'Inter dovesse passarci davanti oggi e poi vincere lo scontro diretto andrebbe a più 4, potenzialmente a più 7. Il campionato è lungo ragazzi, ve lo ripeto, noi abbiamo perso uno scudetto, mi pare che avessimo 9 punti a 7 giornate alla fine, qualcosa del genere. Ne abbiamo vinto uno con dei distacchi altrettanto importanti a poche giornate alla fine, per cui non è una questione di scudetto, è una questione di testa, sicuramente. Non perdere a San Siro vorrebbe dire tanto, non per i punti ma per la testa. E poi vediamo cosa farà l'Inter oggi, perché chiaramente anche dal risultato dell'Inter di oggi possono cambiare un sacco di ragionamenti, perché se l'Inter non dovesse vincere ecco che i ragionamenti sono ancora diversi. Dopodiché andiamo a prepararci la partita di st'alta settimana a San Siro. Sull'arbitraggio cosa dire, l'espulsione assolutamente ci sta, come ci stava quella di Malinowski contro la Juve, come ci stava quella di Berardi all'andata Sassuolo-Juve. Ragazzi, tanto quest'anno va così, va così, meraviglio che qualcuno continua a evidenziare presunti favori eclatanti per la Juve, vabbè, ma tanto è inutile parlare di arbitri. Peccato, peccato, ditemi la vostra, se avete visto una partita diversa, se avete visto delle situazioni che io non ho citato e passate una buona domenica.